Mentre la polizia acquisisce i video dell'episodio, iniziano a venire fuori i primi particolari sullo schiaffo al professore dell'Istituto d'Orso di Avelino da parte di un diciottenne dopo un rimprovero. Il professore avrebbe dato per primo un buffetto affettuoso, e qui le versioni sono contrastanti, da stabilire se sulla guancia o sulla nuca del ragazzo, che poi quasi istintivamente con un malrovescio ha reagito, provocando una tumefazione sotto l'occhio del docente. Il tutto dopo un primo scambio di opinioni verbali. Intanto il provveditore agli studi, Rosa Grano, respinge seccamente le accuse di una scuola velinese delegittimata. Io lo ritengo un caso isolato, da tensionare, da regolare, ma non possiamo certo passare alla cronaca come una realtà che incide sulla delegittimazione degli studenti. Assolutamente no. Ritengo che in questa provincia il ruolo del docente sia un ruolo affermato, condiviso e rispettato. Il ragazzo sarà senz'altro punito, ma non accetto il paragone con altri episodi ben più gravi che hanno riguardato la scuola italiana. Questo non è bullismo. Ci sarà comunque un provvedimento della scuola, perché il fatto sicuramente è censurabile e sanzionabile, però rientrerà nelle autonomie scolastiche quello che poi saranno le decisioni. Quindi non possiamo fare poi processi sommari, ma dobbiamo vedere la realtà dei fatti. Lunedì intanto arriverà la decisione sul provvedimento disciplinare da adottare per il ragazzo, all'esito del collegio, dei docenti e del consiglio d'istituto. E a quanto pare il ministro dell'istruzione Valeria Fedeli avrebbe già avuto qualche contatto con i riferimenti istituzionali locali per ricostruire la vicenda. Sono a disposizione del ministro per ulteriori chiarimenti le parole del preside Iannacone. Fa piacere se le massime istituzioni tengono l'attenzione alta su fenomeni del genere.